Grazie a tutti per tornare molto bene oggi, dopo l'inizio, o dopo la finalità della squadra. Grazie a tutti per essere rientrati così bene dopo la finale della squadra. Diciamo cosa è successo a Bars. La routine è andata bene, poi ho avuto una piccola imprevisto alle parallele. Pensavo di essere buona, ho aperto troppo pesto e ho preso una botta al ginocchio, però sto bene. La routine è stata buona, ho fatto una buona routine, ma alla fine, con il dismount, ho fatto un errore. Ho avuto un piccolo problema con i miei piedi, ma alla fine non è così buono e è ok. Il tuo dismount, soprattutto il tuo dismount, sembrava come una grande vittoria. Come ti senti dopo questa routine? Come ti sei sentita dopo l'esercizio alla trave? Allora sicuramente avevo paura di sentire più male al ginocchio. Ero più preoccupata per quello più che per il resto, però sono riuscito a gestire abbastanza bene e ora sto bene. Ho cercato di gestire la situazione dei miei piedi in BIM, perché ero scoperto di questo. Ma poi i miei piedi diventano migliori e migliori. E ora è ok. We are so happy that you're feeling ok and that you're doing well and congratulations on today. Thank you so much, thank you. Grazie a tutti.